E' di 3,7 anni in meno l'aspettativa di vita di un bambino che nasce a Caltanissetta rispetto a uno che è nato a Firenze. Una differenza di quasi quattro anni tra nord e sud. Ma non è l'unico divario. Un bambino nato nel 2021 in provincia di Bolzano ha un'aspettativa di vita in buona salute di 67,2 anni, mentre uno nato in Calabria di 54,2. Un gap di ben 12 anni. E tra le bambine del sud il divario aumenta ancora di più con una differenza di 15 anni. A lanciare l'allarme è Save the Children durante la presentazione della tredicesima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio dal titolo Come stai? A pesare sulla salute e sul benessere psicologico dei minori sono povertà e disuguaglianze che si sono accentuate soprattutto dopo la pandemia. Secondo un'analisi di Coldiretti sulla base dei dati raccolti dall'Atlante, 600.000 bambini al 18 dei 15 anni hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare. Un incremento del 12% in un anno. Questo a causa della povertà e dell'aumento dell'inflazione che ha messo in difficoltà le famiglie. Nonostante questo dato, la mesa scolastica non è un servizio essenziale e gratuito per tutti i bambini. Save the Children ha ricordato che a essere insufficiente è anche la rete sanitaria territoriale. Mancano 1.400 pediatri. Un focus poi andrebbe posto sulla salute mentale di adolescenti e preadolescenti. Ad aver influito negativamente, peggiorando la situazione, è stata la pandemia. Secondo il monitoraggio, in nuove regioni italiane i ricoveri per patologie neuropsichiatriche e infantile sono cresciuti del 39,5% in due anni. La dimensione del fenomeno dei bambini in povertà assoluta è significativa per noi e diventa una priorità su cui investire e prestare attenzione, dichiara Claudio Tesauro, presidente di Save the Children.